Gentili telespettatori, buona giornata. Il centrodestra è diviso sul governo Draghi. Berlusconi ha dato il suo sì, senza dubbio. Berlusconi è affascinato da Draghi, lo conosce, ha lavorato con lui, l'ha nominato lui in alcuni incarichi. È per il sì. Giorgia Meloni è per il no. Salvini è per il vediamo, ma è propenso a entrare nel governo Draghi. Che cosa ne penso io? Io sono un giornalista di centrodestra, su questo credo che voi non abbiate alcun dubbio. Se lo avevate ve lo confermo io, sono un giornalista di centrodestra, un professore universitario di centrodestra. Ci sono tre posizioni diverse. Io non posso essere uno e trino, non posso condividere tre posizioni diverse. Devo avere una mia posizione, ho una mia posizione, ho una mia idea. Tutte e tre le posizioni sono legittime, non c'è una posizione sbagliata. Partiamo da questo presupposto. Salvini, Meloni e Berlusconi non stanno sbagliando, hanno una visione diversa. Salvini è subito stato per un governo di unità nazionale. Salvini prima ha detto no, poi ha detto vediamo. Centra Giorgetti anche. Giorgetti è un opinionista, è una persona che aiuta Salvini nelle decisioni. È un amico, è un consigliere, è il numero due della Lega. Giorgia Meloni ha ragione a dire no, ha le sue ragioni a dire no. Giorgia Meloni ha un partito in estrema crescita, dal 4 al 18,7 diceva un sondaggio l'altro giorno, 18,7 e quasi al sorpasso con il PD. Giorgia Meloni avrà riflettuto e sa che il suo elettorato gli riconosce soprattutto la coerenza, la granitica coerenza alle sue idee. Se Giorgia Meloni facesse e dicesse sì a Draghi, una parte del suo elettorato non lo capirebbe. Come una gran parte dell'elettorato salviniano non capirebbe l'entrata di Salvini nel governo. C'è una parte dell'elettorato leghista, una parte dell'elettorato meloniano che è assolutamente a favore di entrare con Draghi e c'è chi è assolutamente contrario. Qui è uno spartiacque. Qualunque decisione prenda Salvini e Meloni provocheranno un subbuglio negli elettori. Ci sarà una fuga e un arrivo di elettorato. Quindi con il no di Giorgia Meloni provocherà uscite dal suo partito e entrate nel suo partito. Bisogna vedere se il saldo è positivo o negativo per il partito di Giorgia Meloni. Stessa cosa in Salvini. Salvini entrando nel governo di unità nazionale, come probabilmente sarà, provocherà una sommossa politica. Ci saranno persone che se ne andranno sdegnate, persone che arriveranno contente. Bisogna vedere quale sarà il saldo nel partito. Giorgetti fa presente a Salvini. Guarda, gli dice, guarda Matteo, che inizialmente ci sarà una perdita di elettorato. Il saldo sarà negativo, ma poi ritorneranno. Sarà un bene per il partito. Giorgia Meloni, io credo che sia stata a riflettere e avrà pensato, se io adesso ho sempre detto mai con PD e 5 stelle, se domani entro in un esecutivo nazionale che non ha colori politici, nel senso che non è un esecutivo politico, ma alla fine governo assieme a queste persone, quando io ho detto mai con queste persone, ci perdo la faccia. Come faccio a spiegare al mio elettorato il perché entro in un governo nazionale? O se lo spiego anche nel migliore dei modi? Ci saranno persone che vorranno anche non capirlo. Persone che lo capiranno e persone che non lo vorranno capire. E quindi capite anche la decisione importante che può cambiare le percentuali di voto dei partiti. Con questo governo Draghi cambieranno i sondaggi, cambieranno. Ci sarà chi sale e chi scende. Inevitabilmente l'elettorato italiano è molto fluido. Io che cosa penso? Io penso questo. Il voto non c'è. Io sono d'accordo con Sgarbi, sono d'accordo con Salvini, sono d'accordo con Giorgetti, sono d'accordo con Berlusconi. Il voto non c'è. L'ha detto chiaramente Mattarella. Al voto non si va. Quindi ci sono due anni. Due anni sono tanti. Il governo Conte 1 e il governo Conte 2 sono durati due lunghissimi anni e mezzo. Due lunghissimi anni e mezzo. Soprattutto l'ultimo anno e mezzo, quello del governo Conte 2, è stato il più lungo di tutti. L'opposizione che cosa ha potuto fare in quell'anno e mezzo? Ha potuto criticare. E molti elettori dicono ma voi non fate abbastanza. Voi sapete solo criticare. Attenzione. In democrazia l'opposizione può solo criticare. Non è che può fare altro. Parliamoci chiaro. Anche Giorgia Meloni l'ha detto ma cosa volete? Quello che si può fare è questo. Fare le pulce al governo. Questo è il compito dell'opposizione. Fare le pulce al governo. Secondo voi i tre partiti di opposizione. Devono rimanere due anni all'opposizione a criticare quelli di centro e di sinistra e Forza Italia che sono entrati nel governo per poter ancora decidere sul paese? Questo che chiedo io. Secondo voi è meglio stare fuori a criticare o stare dentro un governo che non è di sinistra ma c'è tutta la sinistra ma non è di sinistra. È un governo aperto a tutti. È un governo di tutti. Non è meglio stare dentro un governo di tutti a combattere per le proprie idee? Io credo che sia meglio stare dentro un governo di tutti a combattere per le proprie idee anche perché c'è un presidente del consiglio che viene indicato da tutti come la miglior personalità attualmente in Italia per poter guidare un esecutivo d'emergenza dentro un disastro economico sociale sanitario non solo italiano ma mondiale. Stando dentro si va a eleggere anche il presidente della repubblica tutti insieme. Si può governare, si possono avere dei ministri, si può contrastare la sinistra, non la si può contrastare dall'opposizione solo criticando. Io credo che bisogna stare in questo governo perché non è governare col centro-sinistra, è governare con il centro-sinistra in un governo di tutti. Governo di tutti. Questa è la mia idea. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.